ragazzi buon anno buon 2022 buon 2022 oggi come primo giorno dell'anno esibisco questa sciarpa della juventus quindi facciamo il video con la sciarpa della juventus perché sto facendo questo video sto facendo questo video iniziamo l'anno col botto allora ieri ho visto tanti video ho letto tante notizie a quanto pare Icardi è vicinissimo la juventus Icardi è vicinissimo alla juventus ragazzi Mauro Icardi è vicino alla juventus allora è il bomber che ci voleva per poter qualificarci al melon champions e fare lo sgambetto all'inter in supercoppa italiana io già spero io già guarda sto sognando di vincere la supercoppa italiana con un gol di Mauro Icardi sarebbe la beffa delle beffe per i prescritti la beffa delle beffe proprio poi anche se non vinciamo niente quest'anno ma vinciamo solo la supercoppa con un gol di Mauro Icardi sarebbe la cosa più bella calcisticamente parlando naturalmente dell'anno dell'anno per me battere l'inter con un gol dell'ex di Mauro Icardi comunque andiamo ai dettagli dettagli ancora specifici non ce ne sono ma a quanto pare Mauro Icardi potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto attenzione non con obbligo perché è ancora l'unico ostacolo che si deve superare è proprio questo cioè dobbiamo superare questo ostacolo qui la juventus non lo vuole Mauro con con obbligo di riscatto proprio perché comunque come sapete Icardi non è Icardi degli altri anni ma non perché non sia forte perché è ancora un attaccante fortissimo un rapace di L di rigore perché siccome al Paris Saint Germain è stato messo ai margini ma è normale con Bappé con Di Maria con tutti questi campioni ora c'è anche Messi quindi Icardi era messo di lato quindi sembra un giocatore di Serie 5 in fronte a loro ma Icardi non è scarso naturalmente la juventus ha dubbi e quindi avendo dei dubbi non si vuole subito sbilanciare comprandolo adesso prima perché non ci sono soldi e secondo comunque perché vuole vedere se Icardi è quello degli altri anni visto che è stato sempre messo nel magazzino in questi anni ha giocato pochissimo e quindi è giusto l'affare si farà se il Paris Saint Germain dovesse accettare il prestito con diritto di riscatto e non con obbligo a giugno cioè la juventus fino a giugno potrebbe avere questo bomber che secondo me è l'arma vincente per poter fare lo sgambetto dell'Inter in Supercoppa e per poter qualificarci in Champions ragazzi se fallisce Icardi non penso proprio che andremo in Champions ci sono schietto e sincero più di 35 anni cioè guardo il calcio da quando avevo 8 anni quindi almeno almeno c'ha un 35 anni che guardo calcio quindi per niente ve lo dico subito non andremo in Champions quindi Icardi è l'arma in più che ci vuole per qualificarci in Champions League e per fare tentare di fare lo sgambetto all'Inter allora ragazzi siamo qui attendiamo gli sviluppi in questi giorni ma secondo me Icardi si farà quindi cominciamo l'anno col botto buon 2022 a tutti e sempre forza Juve